Basti pensare che il già citato Necronomicon, pur essendo dichiaratamente il frutto dell'ingegno del suo autore, si è trasformato in un vero e proprio grimorio contenente oscuri segreti e indecifrabili misteri per moltissimi studiosi, tanto che in diverse occasioni sono nate leggende direttamente collegate ad esso. Dalla post-fazione di Mario Contino